Si parla di tecnologia e di vita nel tuo film e in qualche modo c'è questa metafora tra i fili che muovono le marionette e i dati gigabyte degli algoritmi che muovono oggi le decisioni e le scelte delle persone. Sì, quanto noi scegliamo veramente, quante volte il film che vediamo quella sera è perché lo vogliamo vedere o perché ce l'ha suggerito la piattaforma nei giorni precedenti o in quel momento stesso quanto quello che compriamo è perché lo vogliamo realmente o perché ci hanno messo in testa l'idea di comprarlo e questo lo stiamo portando un po' in tutti, questo meccanismo perché a volte cosa vogliamo fare nella vita non lo decidiamo più noi ma lo decide magari un'ambizione perché può essere anche un'ambizione il nostro puparo. Quindi in questa metafora che mescola un po' i sentimenti e l'attualità volevo raccontare un momento storico in cui la cosa per cui siamo umani, una cosa più bella che scegliere la stiamo un po' perdendo. Tutto questo però, detta così, sembra una cosa terribile. No, è una commedia, si ride, però la linea in cui raccontiamo le cose è questa. In frattempo io parlo con voi ma ci sono gli attori che mi fanno le smorfi perché è una cosa bella del set che eravamo un po' tutti tra amici e quindi ci si divertiva e anche adesso c'è Pandolfo che mi fa le smorfi. Senti Roberto, se tu invece nella vita reale trovassi davvero un libro magico degli algoritmi, come lo useresti? Beh, io vorrei, sarebbe bello sapere tutto degli altri però come accade nel film è un po' complicato è un potere che secondo me non dovrebbe avere nessuno, né una persona come accade nel film e come accade anche nella vita perché gli hacker in generale, chi fa le campagne elettorali e cose del genere può avere informazioni di tutto e non dovrebbe averlo soprattutto una macchina perché se voi pensiamo oggi all'argomento intelligenza artificiale è figlio del fatto che gli abbiano dato così tante informazioni a una macchina che può generare cose nuove, che in realtà è proprio la caratteristica dell'essere umano, creare. Quindi io penso che questo libro se dovesse averlo tra le mani lo butterei a mare, come il Jumanji poi magari torna, però intanto lo butto a mare. Barbara, tu sei il capo di Roberto, soprattutto in Italia. Cattiva, aggressivissima, ha rivista una bella donna di quelle in carriera. E che rapporto hai tu invece con gli algoritmi e con tutto questo nuovo mondo che giustamente, dice Roberto, sembra scegliere per te? Allora, io ho un rapporto, mi piace, mi interessa, leggo sull'argomento ma rimango ancorata ai pupi, alla tradizione, io sono dell'idea che se tutto viene governato dagli algoritmi noi spegniamo il cervello. Io penso che il pensiero critico è fondamentale per diventare degli esseri umani migliori. Hai bisogno, devi poter sbagliare e devi poter scegliere e non trovare un mondo blu se ti piace il blu.